Salve a tutti ragazzi. Adesso vado a svolgere un esercizio che è stato appunto richiesto. Questo esercizio era nel compito di chimica organica della facoltà di farmacia di Cagliari in data 20 febbraio 2017. Allora il testo recita praticamente questo, ci dice che dobbiamo partire dal benzene per arrivare a un chetone aromatico, in questo caso possiamo chiamare metanone che lega praticamente un fenil e lega poi un anello sempre aromatico che lega in posizione 4 un bromo, in posizione 2 un nitrogruppo, quindi il nome sarà 4 bromo, 2 nitrofenil, fenil, metanone. Allora vediamo subito come partire. Intanto la prima cosa che possiamo fare è quella appunto di partire dal benzene e effettuare una alchilazione. La possiamo effettuare appunto con CH3Cl, quindi clorometano in LCl3, ricordando sempre la limitazione dell'alchilazione che è la possibilità di avere delle polialchilazioni. Ecco perché la variante a questa reazione potrebbe essere la Gatterman Koch e la successiva riduzione del carbonile dell'aldene che andiamo a formare. In ogni caso che io effettui questa con la Gatterman Koch, vado a creare il toluene. Benissimo, il toluene io so che appunto il gruppo metilico legato al benzene è un orto parorientante attivante debole per effetto induttivo positivo e quindi comunque un orto parorientante. Quindi su questo anello a questo punto che cosa sto facendo? Posso fare una solfonazione, addizionando anche anidride solforica. in ogni caso da questa reazione ottengo che cosa? Ottengo il gruppo solfonico legato in posizione para, a parte si formerà anche quello orto ma possiamo separarli. Io mi scrivo questo, quello di nostro interesse, quindi ricordiamoci che appunto il toluene è orto parorientante ma in questo caso prevarebbe il para, visto anche l'ingombolo dell'ione solfonio che si crea o anche della stessa anidride solforica. Quindi abbiamo creato questa specie. Perché l'abbiamo creata? L'abbiamo creata perché a questo punto il gruppo solfonico è un metta orientante. Metta orientante. orienterebbe, secondo questo gruppo, in questa posizione rispetto all'SO3H. Ma è la stessa posizione in cui orienta il gruppo metilico, quindi ci va benissimo. Quindi la posizione più favorita è sicuramente questa. Naturalmente questa è equivalente. Perché abbiamo fatto questo? Abbiamo fatto questo semplicemente perché adesso dobbiamo effettuare una nitrazione con acido nitrico. Serve anche chiaramente l'acido solforico nella nitrazione e andiamo praticamente a creare un gruppo nitro in questa posizione. Quindi questo è orto parorientante ma la posizione pare giocopata, quindi quella che rimane la orto. Tanto più che c'è cooperazione con il metta orientante. Da questo punto pochi dubbi che si leghi in questa posizione. Quindi l'ENO2 si lega qua. A questo punto dobbiamo fare che cosa? Siccome in questa posizione pare al carbonile che diventerà praticamente a seguito di un'azione sul CH3, dobbiamo legare praticamente un bromo. Ok? Quindi dobbiamo eliminarci che cosa? Il gruppo solfonico? E lo possiamo fare grazie al fatto che la solfonazione, una reazione in equilibrio, è l'unica delle cinque tutte in equilibrio. E quindi se io considero il cosiddetto equilibrio dinamico, quindi il principio di Le Chatelier, posso far sì che questo gruppo solfonico possa essere praticamente nuovamente eliminato. Ricordando sempre quell'equilibrio. Quindi in pratica che cosa abbiamo fatto? Abbiamo legato un gruppo disattivantemente per orientare precisamente in questa posizione in cooperazione col metile e dopo lo stiamo eliminando con l'accio al forco diluito e riscaldamento. Fino ad arrivare al 2 nitrotoluene. A questo punto posso effettuare la reazione che mi permette di legare in questa posizione il bromo. Quindi farò una allogenazione, nello specifico una bromurazione con catalizzatore di Lewis e posso arrivare a creare questa specie. Quindi il metile, il neo2 e poi semplicemente il bromo che si lega in questa posizione. Perché? Il CH3 è un orto paro orientante e il neo2 un meta orientante. Questa è una posizione anche meno ingombrata quindi si legherà soprattutto in questa posizione. In posizione para al metile che è un orto paro orientante in posizione meta al nitro gruppo, cioè in questa posizione. Arrivati a questo punto vado a lavorare su questo metile, quindi su questo carbonio che dovrà diventare un carbonio carbonilico ma nello specifico so che esiste una reazione che è chiamata appunto ossidazione degli areni o meglio in questo caso del metilbenzene, anche se lega il neo2 in orto e la bromo in para. Trattando con un ossidante energico come il permanganato di potassio, posso ossidare la funzione carbosilica e il CH3. Così. E a questo punto mi sto avvicinando molto a questa situazione. Il carbonile l'ho inserito. L'ho inserito sotto forma di gruppo carbosilico, quindi è anche un gruppo idrosilico. Adesso devo arrivare a un reattivo più importante, cioè devo trasformarmi, che cosa? Devo trasformarmi il gruppo carbosilico in cloruracilico e io so che questo praticamente lo posso fare trattando con SOCl2, quindi avrò una sostituzione nucleofila acilica anche con piridina e vado a creare il cloruro acilico. A questo punto sono molto vicino al termine della reazione, della sintesi che mi hanno chiesto, che vi ho voluto proporre, perché semplicemente ho un cloruro acilico. Per arrivare al prodotto finale, che era questo, devo attaccare questa ulteriore catena, cioè un anello. E quindi come lo posso fare? Sfruttando una reazione delle delle cinque reazioni dirette del benzene, cioè trattando con benzene, chiaramente la sostituzione, la appunto acilazione di Friedel Kraft praticamente avviene sempre in presenza di un catalizzatore. A questo punto quest'anello andrà a legarsi sul carbonio e carbonilico e quindi sono andato, sono andato a creare in pratica il composto che c'era stato chiesto e bromo. Questo anello in pratica è il secondo che siamo riusciti a legare attraverso una acilazione di Friedel Kraft. E tutta questa catena l'abbiamo creata precedentemente. Un'altra cosa che possiamo dire, possiamo rivederla velocemente. Abbiamo fatto un'alchilazione o, anche possibile, Gatterman Coke riduzione per creare il toluene. Abbiamo fatto una solfonazione, una delle cinque reazioni del benzene, attacco in para, grazie all'orto parorientante. Abbiamo poi effettuato una nitrazione con selettività in questa posizione di attacco, grazie alla presenza dell'orto orientante e del meta orientante. Abbiamo trattato l'acil solforico molto diluito e con riscaldamento per eliminarsi il gruppo solfonico. A questo punto abbiamo fatto la bromurazione con cooperazione di attacco del metile che è orto parorientante, del nitro gruppo che è meta orientante e abbiamo poi creato la condizione perché si potesse legare l'altro nell'aromatico. Quindi abbiamo trasformato il gruppo metilico in carbosilico attraverso un'ossidazione con permanganato di potassio. Abbiamo fatto una sostituzione nucleofilacilica passando dal gruppo carbosilico al cloruro acilico che praticamente sarebbe un cloruro di benzoile con i due sostituenti legati in orto e para e poi abbiamo fatto un'acilazione di federal graph in condizioni di catalisi con un catalizzatore di use, fino ad ottenere il nostro prodotto finale. Ok, la prossima sintesi riguarderà sicuramente qualcosa relativa a composti un pochino più complicati. Grazie, alla prossima!